Ma ho più volte detto che gli stati senza tifosi di entrambe le squadre sono stati tristi, quindi è una sconfitta dello sport quando non possono andare i tifosi del Napoli a Torino, non possono venire tifosi di altre squadre nello Stato San Paolo quando gioca il Napoli, però interroghiamoci perché accade questo, le domande che ripetiamo, è una sconfitta del calcio sicuramente, per quanto mi riguarda è una sconfitta del calcio.